Oltre 2.500 metri quadrati di superficie, oltre 100 posti auto in zona disco per due ore. Questi numeri della nuova area parcheggio inaugurata questa mattina a Porto Empedocle. A tagliare il nastro il sindaco Lillo Firetto che ha sottolineato come l'area sia stata sottratta al degrado. Un'opera che aggiunge un importante tassello verso la riqualificazione dell'intera superficie retroportuale. Sono circa un centinaio di posti che si trovano in una zona che è strategica, nel mezzo del centro storico, in un'area di retroporto. E quindi un'opzione in più per il parcheggio, specialmente in un centro storico come il nostro che è preso assalto soprattutto nel periodo estivo. Ed è anche un'operazione di riqualificazione urbana secondo me significativa perché questa, fino a qualche tempo fa lo ricorderete, era un'area assolutamente depressa, lasciata a se stessa anche con elementi di discarica. Devo in questa occasione non solo ringraziare anche il privato che ci ha donato il terreno, ma gli uffici comunali perché la progettazione è stata sviluppata internamente e quindi in tempi molto veloci siamo riusciti a donare questo nuovo asset alla città, migliorando notevolmente la funzionalità dal punto di vista della mobilità urbana. Anche in un periodo sotto le festività natalizie è importante ricavare nuovi parcheggi. I parcheggi per definizione è sempre importante, al di là del Natale o dell'estate. Un'operazione di riqualificazione secondo me di grande significato perché oramai il fronte porto per la nostra cittadina è completamente mutato.